salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di trap dungeons 2 conosciuto come trap adventure 2 allora qui c'è anche riccardo ciao allora scegliamo il nostro personaggio io scelgo il primo perché mi piace allora c'è come vedete new world e classic il nuovo mondo e iniziamo col classico noi siamo questa persona qua che salta vabbè noi siamo questa persona così ci abbassiamo con il punto esclamativo ci abbassiamo con due punti sentiamo e quale facette ci muoviamo buono andiamo avanti allora questo è un bel gioco già l'ho provato in precedenza perché ho un po i trucchetti li so ma facciamo finta che li so li sapevo infatti sono fortissimo come no allora i trucchetti ora li ho capiti basta stare così e imbassare aiuto lo so salve aiuto ahahah ma non si può tornare indietro ok ma se io mi passo qua lei mi prende decisamente no ok non me lo hai Non ci facciamo prendere Ma noi siamo bravissimi Saltiamo addosso Allora Bella fallina Brutta fallina Vieni aiuto Ok Vai 2.000 falline 3.000.000 Perché è sempre quella Vai Ora facciamolo per bene Non è che mi hanno preso le spine Mi ha preso solo la pallina Allora Una sola Aiuto 2.000 Sono morti No Ok Ora facciamolo per bene Voglio vedere quanto riesco ad arrivare senza morire manca una volta Bene Per ora stiamo andando avanti La mazzurina è bella Allora Oh no Qua c'è questo No mi ha preso Come ha osato prendere me Un attimo di silenzio Ce l'ho fatta Sì No ma questo è più difficile Da che ce la possiamo fare No Che fa' sta cosa Questa cosa è pazza Basta scendo Ok ce l'ho fatta Scendiamo tutto Ma vai Voi non l'avete visto Ora io che ci sono sempre Il problema Adesso che mori subito Se non stai attento Allora Continuiamo L'aria È molta Allora Guardati che è questa Salire è tutto Scendo il più possibile Metteci Attenzione alle spine che Sono spuntate Dai Ok Pensavo di non riuscire Allora Questo è difficile Perché devi fare così E naturalmente Ci sono le bombe Che sgancia questo Sottomarino Io preferirei Che non le sganciassimo Perché mi fa esplodere Questa cosa Mi fa esplodere Muori pure dalle spine Continuiamo Eh Vediamo Ok Ok Andrea Ma il tuo gioco Serve la commissione? No Alla dove di sanno Oh no Che cos'è No Qua sbaglio Sempre cazzo Sempre nella graffia Ok Siamo attenti alle bombe Che inoltre Fanno un'esplosione Davvero molto piccola È piccolissima Quella esplosione Allora Questa parte è Molto difficile E poi devi andare Da quel lato Senza farti prendere Ecco così Chi l'ha inventato Questo gioco? Bella Scendiamo Ok Questa è la parte Più difficile Ma facci entrare Dovrei fare così Adesso Scusate Ma non si vede molto Allora No Allora Quanti video Due Ce la posso fare Di sicuro Ora vinco Allora Questo gioco È molto difficile E soprattutto Dei riuscire Ok Ingancio vai Via Grego No No Per un pelo Ce la posso fare Ce la posso fare Allora Non perché non si apre una volta Ok Si sono aperte No Vabbè Per oggi Il video Finisce qua Però Vediamo Vedere il nuovo mondo Che è anche più difficile Eh Visto Vi fare così Ok Non so come ce l'ho fatta Oh Continuiamo A fare Allora Non ci siamo capiti Forse Vabbè Il video è finito Ciao